we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuderone e finalmente ultimo video tutorial per le sfide della settimana numero 8 di fortnite non dimenticate ragazzi che troverete nel canale un sacco di altri video le posizioni dei telefoni i vari pezzi del puzzle la posizione dello standard o segreto ma oggi ragazzi parliamo della posizione esatta della mappa del tesoro di palmetto paradisiaco non vi faccio neanche vedere dov'è la mappa palmetto ve la mostro semplicemente eccola qua era tanto che non c'era una mappa dove dovevamo andare a cercare la stellina beh ragazzi penso che avete già capito qual è la posizione che viene indicata ed è proprio sotto di noi ragazzi siamo a rampe ghiacciate davvero molto molto simile quello che stiamo vedendo dall'alto i due bunker con la pista degli aeroplani basterà semplicemente atterrare all'inizio della pista e per magia apparirà proprio qua la stellina che stiamo cercando io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo in live ciao iscrivetevi al canale